Legnano e la sua storia Un omicidio politico a Legnano nel 1468 Loschi intrighi tra due casati durante gli sforza Febbraio 1468, Legnano, notte Viene commesso un omicidio che colpisce un appartenente della potente antica consorteria familiare dei Crivelli I colpevoli sono individuati tra i membri dell'altrettanto antico casato Ma in apparente declino politico, dei Lampugnani del ramo legnanese La denuncia del crimine raggiunge gli organismi di governo dell'epoca Nella persona del quinto duca di Milano, Galeazzo Maria Sforza Il quale affida la fase istruttoria del caso al capitano del Seprio Taddeo Bucchiarini da Cremona Informato dell'accaduto e rientrando tra i casi di altra giustizia In quanto omicidio a sfondo politico Il consiglio segreto di Milano, che era il massimo organismo politico-amministrativo e giudiziario del regime sforzesco Decide, in parallelo al duca, di affidare le indagini al vicario generale Giovanni Battista Miccoli da Lodi Emergono così, all'interno di questa singola vicenda Alcune delle problematiche maggiori che il potere ducale dovette quotidianamente affrontare nella seconda metà del Quattrocento La razionalizzazione del sistema giudiziario Compromessa da una lunga tradizione di sovrapposizione di competenze tra i vari organismi istituzionali E da un'altrettanto radicata parcellizzazione giuridizionale tra magistrature centrali e periferiche La volontà accentatrice dei duchi di Milano, che tuttavia si manifesta nel rispetto Forzato dalle esigenze di autonomia e particolarismo sviluppatisi localmente all'interno del loro dominio Sostenuta da apparati di governo riformati allo scopo E pertanto meno sensibili alla tutela dei delicati equilibri politico-sociali Gli stessi che permettevano agli sforza di esercitare il proprio potere anche a livello periferico Una tensione sotterranea e forte che percorre orizzontalmente la nobiltà milanese di antica origine Coinvolta a differenti livelli nella macchina burocratica sforzesca E tuttavia incapace di superare vecchie e nuove rivalità Che l'atteggiamento del duca nei loro confronti Sembra avere favorito, se non addirittura esacerbato, piuttosto che sopito Più in generale, il caso di Legnano Permette di illustrare in concreto le difficoltà giudiziarie attive nella seconda metà del Quattrocento Nel dominio sforzesco Per una cronica mancanza di fonti specifiche E, quanto fosse stretto, allora il rapporto tra esercizio del potere politico e amministrazione della giustizia Grazie a tutti